Ben ritrovati dagli studi di TV City, questa sera era in programma il confronto con i candidati sindaco a pochi giorni ormai dal voto promosso dalla nostra emittente, confronto che tuttavia abbiamo dovuto rimodolare per la scelta del candidato sindaco del centrodestra Ciro Borriello del candidato sindaco del centrosinistra Luigi Mennella di non partecipare, tuttavia per correttezza nei confronti invece degli altri tre candidati che hanno aderito al nostro invito, stasera vi proponiamo un momento di approfondimento sui tre candidati, iniziamo con Luigi Caldarola, 39 anni, militare di carriera, candidato sindaco della coalizione dei cambiamenti, guardiamo la clip. La mia idea nasce da un confronto, da un dialogo, dalla mia coalizione che insieme a tanti amici, alle liste civiche che mi sostengono, diversi mesi fa hanno scelto me come collante, come insomma espressione di questa coalizione, ma in realtà è un ragionamento di gruppo, di condivisione, di dialogo. Quali sono i punti salienti del suo programma? Noi immaginiamo di riportare l'ordinario ad essere ordinario e non straordinario, noi immaginiamo una città che possa essere a misura di famiglie, con i servizi necessari, funzionali, noi immaginiamo di guardare le periferie con concretezza, di riportare l'ufficio anagrafe a Viale Sardegna perché è assurdo immaginare che una città di 33 km quadrati non abbia almeno due uffici che servano sia la periferia sia la città. Noi immaginiamo un'amministrazione che sia sostenibile sotto tutti i punti di vista, sostenibile in maniera ambientale, sostenibile in maniera economica, sostenibile in maniera sociale. Noi abbiamo una coalizione che è fatta di persone competenti, di giovani capaci, di amministratori che saranno in grado di riportare Torre del Greco a livelli che merita e di riportare Torre del Greco ad essere la città che è già adesso, una città bellissima, una città che ha bisogno solo di essere risollevata ed essere accompagnata a un futuro dignitoso. Tre obiettivi da realizzare nei primi 100 giorni di governo? Nei primi 100 giorni di governo io immagino di realizzare e di dare l'indirizzo necessario per risistemare la macchina burocratica che oggi è totalmente carente di personale e quindi immagino di accorpare alcuni uffici, renderli funzionali e sopperire alla mancanza oramai atavica di personale creando una struttura più snella e più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Immaginiamo di iniziare un percorso virtuoso in cui il turismo sia il volano economico della città, partendo da un punto fondamentale. Si è parlato, ho sentito parlare di turismo religioso. Il primo atto che noi faremo è di proclamare San Vincenzo Romano padrono della città. Abbiamo un santo da 5 anni e nessuno lo sa, non lo sanno i cittadini che lo ricordano ancora come beato. Noi proclameremo San Vincenzo Romano padrono della città e da lì si inizierà un percorso virtuoso che verrà accompagnato da un assessorato al turismo, dagli infopoint in città. Noi immaginiamo di ridare speranze e dignità alla città avviando il percorso di un house per quanto riguarda il sistema dei rifiuti. Immaginiamo una partecipata pubblica. Noi non ci dobbiamo inventare nulla, dobbiamo imparare a copiare i modelli virtuosi di buona amministrazione che sono presenti nel territorio campano. In particolare voglio citare Bacoli e Portici, sono due modelli virtuosi. Noi dobbiamo imparare da queste realtà e trasformare le loro buone pratiche di amministrazione e modellarle a città del greco. Cosa pensa degli altri competitors? Io non penso nulla degli altri perché tendenzialmente penso a quello che stiamo facendo noi. Posso dire che sono deluso dall'approccio che hanno avuto i competitor a quello che sono il sale della politica. Se non c'è confronto, se non c'è dialogo, non c'è politica. Se non c'è confronto e non c'è dialogo durante la campagna elettorale immaginiamoci se uno dei due dovesse arrivare a Palazzo Baronale. Si chiuderanno nelle stanze del potere, dei bottoni e decideranno loro il futuro dei cittadini senza ascoltare né le categorie, né le associazioni, né i cittadini, né i giovani. Non ascolteranno nessuno perché non l'hanno fatto prima e non vedo il motivo per cui dovranno farle poi. Non ascolteranno nessuno come hanno fatto già in passato e come stanno facendo adesso. Non ascolteranno nessuno perché hanno una visione miope della città e lo hanno dimostrato nel passato e lo stanno dimostrando oggi. Noi abbiamo avuto la capacità e la voglia di parlare alla gente, lo abbiamo fatto nelle strade, abbiamo fatto nelle piazze, le abbiamo riempite di gente, di persone e di contenuti. Quello che loro non sono venuti a raccontare è quello che loro non hanno detto perché in realtà nei programmi dei miei competitors non ci sono contenuti, ci sono solo promesse e parole che non trovano riscontro con quello che è la realtà, che non trovano riscontro con l'effettiva capacità di amministrare una città. Se questa città negli ultimi 30 anni è stata amministrata male probabilmente è colpa di chi oggi si sta ripresentando ancora una volta per amministrare questa città. È colpa di coloro che sostengono le altre coalizioni che hanno avuto ruoli apicali all'interno delle amministrazioni degli ultimi 20 anni. Quindi è necessario un cambiamento, è necessario fare una rivoluzione politica, culturale. Noi siamo il cambiamento, noi siamo la vera rivoluzione di questa campagna elettorale e siamo il presente perché i giovani non sono il futuro, i giovani sono il presente. Noi siamo il presente e saremo il futuro di questa città. Mancano ormai pochi giorni al voto e cresce la sfiducia tra gli elettori. Come convincere delusi e indecisi? Bisogna andare a votare, bisogna andare a votare e farlo bene, a prescindere da chi si vuole votare, ma bisogna partecipare. Svendere la propria dignità per 20, 30, 40, 50 euro per una promessa di un posto di lavoro che non arriverà mai significa non voler bene alla propria città, non voler bene a se stessi. Noi siamo la coalizione dei cambiamenti e non immaginiamo di sostenere nessuno dopo questa prima parte della tornata elettorale perché ci saremo noi al ballottaggio, ma soprattutto perché nessuno può rappresentare quello che abbiamo fatto in questa campagna elettorale, non nessuno ci può rappresentare perché nessuno è stato in grado di porsi con la giusta attenzione e di fare le giuste cose per la città. Nessuna proposta a noi ci ha convinto, nessun accordo sarà fatto a ribasso, nessun accordo di poltrono, nessun accordo per svendere ancora una volta la città di Torre del Greco. La mia coalizione, io non farò nessun accordo perché nessun accordo è possibile con coloro che hanno distrutto Torre del Greco. Proseguiamo ora con Eligio Poetini, 61 anni, infermiere professionista candidato con Potere al Popolo. L'idea di candidarsi con Potere al Popolo nasce dopo un'attenta riflessione con gli stessi compagni di Potere al Popolo, in quanto noi non volevamo partecipare a queste elezioni con carrozzoni vari o con inciuci vari, ma abbiamo preferito fare una lista unica e correre da soli e quindi quando mi è stato chiesto se ero disponibile di candidarmi come Sindaco con Potere al Popolo, la mia è stata una risposta di servizio perché la città ha bisogno di un cambiamento. Quali sono i punti salienti del suo programma? I punti salienti del programma che non è mio ma è di tutta la lista, quindi è nato dopo un'attenta riflessione con tutti i candidati presenti in lista, è un programma che va verso la città ed è per la città. Noi abbiamo inserito tanti punti nel programma che sono utili alla città stessa. Non abbiamo dimenticato i lavoratori, non abbiamo dimenticato i marittimi, non abbiamo dimenticato i trasporti, le politiche sociali, l'ambiente, non abbiamo dimenticato la cultura, non abbiamo dimenticato la spending review, non abbiamo dimenticato l'acqua come bene pubblico e abbiamo proprio messo al centro proprio questo, acqua bene comune. Tre obiettivi da realizzare nei primi 100 giorni di governo? Le problematiche per la città sono tante, ma secondo un mio modesto parere la cosa da fare principalmente è quella di mettere in atto quei progetti che sono stati accantonati o mai realizzati e che hanno i fondi necessari per poter essere poi realizzati. Vi definite l'unica lista popolare di sinistra, perché? Perché veramente siamo l'unica lista di sinistra, noi siamo veramente l'espressione della sinistra, perché nella coalizione di centro-sinistra non vediamo una sinistra che guarda verso la gente, verso il popolo, verso i lavoratori e verso le fasce deboli presenti in città. Cosa pensa degli altri competitors? Io non faccio nessuna polemica con gli altri competitors, anche perché loro hanno un'esperienza politica di gran lunga, veramente hanno amministrato la nostra città, chi per un verso e chi per un altro. hanno il coraggio di ripresentarsi, nonostante le loro precedenti cariche istituzionali non hanno sortito un grosso favore alla città stessa. Noi questi apparentamenti non ci sono mai piaciuti e quindi ecco perché poi corriamo da soli. Il suo ambito professionale è quello sanitario, che cosa pensa di fare proprio per la sanità pubblica? Era un altro punto presente nel programma, la sanità pubblica, anche perché lei sa bene che il sindaco è il primo responsabile della sanità pubblica della sua città. Lasciamo perdere l'ospedale perché è di competenza regionale e quindi non tocchiamo tasti che non sono di competenza poi di un'amministrazione comunale, se non quella di insistere a livello regionale di tenere presente che una città così grossa non abbia un ospedale funzionante per il bacino di utenza che può essere attivato in città stessa. Però per la sanità pubblica un sindaco può intervenire in quello che sono i servizi primari della città. Voglio pensare all'assistenza domiciliare integrata, voglio pensare al centro unico di prenotazioni, a quelle file interminabili quando si deve fare la scelta o la revoca di un medico. In questo settore il sindaco invece può intervenire facendo il passaggio direttamente con il direttore del distretto. Come invece pensa di riorganizzare la macchina comunale? Innanzitutto la macchina comunale va riorganizzata con nuove assunzioni, con personale competente e capace. La riorganizzazione passa attraverso una serie di cose che noi abbiamo inserito nel nostro programma che abbiamo presentato alla città. Fonti di giovani che possono fare da guida nei vari posti belli della nostra città e sia per esempio anche per il litorale fare in modo che queste cooperative sociali possano avere in gestione gli spazi, i lidi pubblici e quindi dare in gestione a loro, quindi ampliare i servizi per la città, per il bagnante che vuole avere uno spazio proprio. Mancano ormai pochi giorni al voto e cresce la sfiducia tra gli elettori. Come convincere delusi e indecisi? Penso che i delusi e gli indecisi siano tanti perché sono scoraggiati dalle precedenti amministrazioni. Io invito tutti a votare perché il voto è un atto di democrazia e poi se noi votiamo possiamo essere poi parte attiva alla vita politica della città stessa. Possiamo veramente poi chiedere quelli che sono i nostri diritti perché non dimentichiamo che ognuno di noi come cittadino ha dei diritti e dei doveri. È importante votare, è importante capire che cosa votare, è importante capire quale è realmente il voto utile alla città e secondo noi Potere al Popolo è l'unico voto utile veramente per la città che possa avere quel rilancio tanto atteso negli anni. Infine Michele Battiloro, 58 anni, musicista, si definisce il sindaco del popolo. Ho scelto di candidarmi un po' per dare voce a quella fetta di popolo che non credi più nella politica, a quella fetta di popolo veramente con disagi, quelle famiglie che veramente non possono andare più avanti, nessuno se ne è accorto di queste famiglie. Per quella fetta di popolo, diciamo, di anziani che sono costretti a stare nel letto con 500-600 euro di pensione al mese senza assistenza e senza niente. Anche per un po' per cercare di cambiare questo sistema politico territoriale che ci ha portato veramente a decreto assoluto. Deve essere negli ultimi anni, ma non solo negli ultimi cinque anni che è stata proprio la cileggine sulla torta e quella di Palomba, ci hanno proprio distrutto una città, strade dissestate, c'è immondizia di versutto, spazzatura e tutto il resto. L'amministrazione era assente sul territorio, questi candidati, questi consiglieri comunali si sono visti solo durante le elezioni, il momento elettorale e non giravano dei territori e non sapevano quello che succedeva nei territori. Mi sono candidato proprio per dare voce al popolo e non solo, perché comunque io faccio parte di un partito storico, stiamo combattendo da 30 anni con la democrazia cristiana, sono un dirigente nazionale di questo partito, vera democrazia cristiana, non di qualcuno che è candidato con i repubblicani, anche perché l'articolo 118 dello statuto democrazia cristiana dice che chi si candida in altri partiti non decade, ma anche se fosse vero, parlo di qualcuno che si è autonominato, segretario nazionale della democrazia cristiana, sta combattendo da 30 anni, sappiamo benissimo questo partito di benessere che ha dato al popolo italiano della prima repubblica e non lo possiamo negare, domandate ai nostri nonni, ai nostri avi. Dunque le è stato accordato il permesso di utilizzare il logo? Allora il permesso del logo, dovete sapere che ho presentato anche il logo nel 2018, pensate che io sono stato candidato da dirigente nazionale anche alle regionali delle Marche nella città di Ancona, abbiamo i nostri consiglieri comunali a Tercolano con questo logo, anche nel 2015 fu eletto un consigliere colano a Tercolano. Tre obiettivi per la città? Le famiglie, le famiglie, stare molto vicino a queste famiglie che veramente, adesso che il reddito di cittadinanza lo stanno togliendo, dovete sapere che specialmente nelle mie zone native, zone diciamo un po' più abbandonate negli ultimi anni dall'amministrazione comunale e tutto, ci sono molte persone che percepivano il reddito di cittadinanza, anche se sono stati attaccati molto su questo reddito di cittadinanza. Adesso ci sono molte mamme veramente con bambini piccoli che devono andare a lavorare in palazzi per 5 euro all'ora. Il primo obiettivo è stare vicino a queste famiglie, vicino anche agli anziani, bisogna dare un'assistenza agli anziani che prendono una misera pensione di 500-600 euro al mese, bisogna creare un qualcosa per dare assistenza a questi anziani che poverini quasi quasi sono destinati a morire solo come cani e no, la prima cosa sono le famiglie, l'avvicinamento alle famiglie, solo così possiamo un po' cercare di migliorare anche le future generazioni perché è normale che poi un bambino si può anche perdere con il tempo, prendendo il butto in strada, non avendo una giusta indicazione anche economica e sociale. Un altro obiettivo che è sotto gli occhi di tutti è normale, visto negli ultimi 5 anni, a parte il PNRR, che tutti parlano di PNRR, giustamente bisogna parlare, le strade dissestate al massimo, hanno fatto questi lavori di fibra ottica, hanno distrutto proprio le strade e non solo, anche il sottosuolo, dovete pensare che nel sottosuolo ormai quando piove tutta questa acqua va a finire nelle fondamenta dei palazzi e prima o poi si rompe qualche fondamento, bisogna rivedere tutto il sistema fognario anche di Toreghe, io sto parlando di quello che il comune potrebbe fare a parte il PNRR e non solo, un'altra cosa importante perché non è che sono solo tre, ci sono tantissime di quelle cose da fare a Toreghe e bisogna fare un sistema di siscia e bianche e siscia e blu nello stesso modo in pratica. Quindi votare Michele Battiloro è un voto di protesta? Su appello ai cittadini. Allora io direi il mio voto è nato non come voto di protesta, ma questo voto di protesta l'ha voluto il popolo, il cittadino, perché quando mi vedevano da solo, dicevano è un voto di protesta e lo è diventato. Sì, votare Michele Battiloro è un voto di protesta a tutto questo sistema che ci è degradato negli ultimi 30 anni. Speriamo che questa trasmissione sia stata di vostro gradimento, restate informati seguendo i nostri canali, continueremo a seguire le elezioni nella città di Torre del Greco.